Stato organizzando una partita del cuore, perché? Insieme con l'Accademy Strongoli stiamo organizzando questa partita del cuore perché lo scopo della nostra associazione è proprio quello di finanziare un progetto di ricerca sulla malattia di chi soffre Aurora, mia figlia, e altri bambini nel mondo. Sono circa 40 casi nel mondo, soltanto due in Italia. La malattia è collegata alla variante del gene UGDH, nota anche come sindrome di Jammuar. La partita del cuore viene organizzata proprio con lo scopo di raccogliere dei fondi che saranno poi destinati a finanziare un progetto di ricerca chiamato SID Grant che partirà ad ottobre e sarà gestito da Fondazione Teleton, il cui scopo principale è proprio quello di trovare delle terapie mirate per questa patologia. Quanti anni ha tua figlia? Sei anni e mezzo, sette anni ad ottobre. Quando avete scoperto questa malattia? La malattia è stata diagnosticata soltanto a cinque anni, a dicembre del 2020, però ci siamo accorti che lei aveva delle problematiche fin da subito, fin dalla nascita, anche se poi è intorno a sei mesi che abbiamo iniziato a fare delle indagini. Però è stata scoperta tardi, la diagnosi è arrivata tardi, proprio perché la malattia non era conosciuta. È stata scoperta come malattia proprio nel 2020. Questa partita del cuore sarà giocata a strongoli, chiaramente, e il ricavato sarà destinato a Teleton? Il ricavato sarà destinato alla nostra associazione e utilizzeremo poi questi fondi a fine ottobre, entro ottobre, per finanziare questo progetto con Teleton. È un progetto che riguarda l'associazione? È un progetto proprio di ricerca sulla malattia. Lo scopo è trovare proprio delle terapie mirate a questa patologia. Grazie. Grazie.